Componenti elettronici Recoverare le componenti elettroniche è una pratica di spazio tra gli entusiasti elettronici. Ci sono diversi metodi, più o meno validi e a volte chiuso un tasto non personale o l'avviabilità dell'acquipamento. Durante i anni ho esperimentato con diversi metodi, con il potere, con una piazza di acqua, con una stazione di lavoro, con i soldi, e anche semplicemente con l'acquipamento e la pompa suzione. In ogni caso, il risultato è sempre lo stesso, montagne di componenti scattati al centro del lab e montagne di dispositivi elettronici per disassembliare. Disassembliare, selezione, non soldiare, classificare requiere una grande quantità di tempo. ma se consideriamo il prezzo dei componenti elettronici in oggi, potrebbe essere dubbato dove sia davvero valutato. Questo video non è sui componenti elettronici, ma è più sui tempo. Quando spendiamo il nostro tempo in queste attività, probabilmente lo prendiamo dall'attività di valore tecnico e scientifico, come leggere un nuovo libro, apprendere una lingua programma o semplicemente construire o designare qualcosa che ci interessa. Inoltre, i componenti elettronici non sono sicuri e portano con loro una piazza pericolosa. Un chip effettivo potrebbe essere immaginato nel soldare, e potrebbero sbagliare ore e ore di tempo in caso di una felicità. quando stiamo costruendo qualcosa possiamo fare errori o errori o errori e il nostro tipo prodotto potrebbe non funzionare. Inoltre, è meglio ridurre il livello di incertezza usando solo nuovi componenti. L'ideal soluzione sarà di un soldare solo i componenti molto cari o i componenti che non sono disponibili nel lab in quel momento. Inoltre, hanno bisogno di essere testati. La mia opinione su la recuperazione di componenti elettronici è che sia valuta solo se le componenti o rari sono necessarie. Potete le componenti ora ma il compagno non è giustificato il costo del vendere. Il componenti non è prontato a fallire come, in esempio, le botte o le connessioni. C'è un altro modo per ottenere le componenti. Una griglia di parti per ogni tipo di progetto sono i mercati dei mercati In questi mercati puoi trovare componenti elettronici di tutti i tipi computer e molti altri materiali. Il mercato presente in questo mercato viene da lavori e a volte anche da stocchi e da inizio in questo caso è possibile trovare nuovi componenti a molti prezzi qui sono alcuni tipi basati su la mia esperienza 1 compagni il mercato è possibile trovare una box con diversi componenti elettronici e parti se compagni la box avete un prezzo 2 recuperare le componenti non disponibili o cari dei componenti se siete cercando un composto costoso o raro considera la recuperazione di un elettronico un tempo mi ero fascinato da Nixi che aveva un display di Nixi di Nixi di e-commerce 3 resell ciò che non usate potrebbe essere semplicemente risolto per esempio computer come WIC20 o Commodore 64 sono buoni item per resell su siti popolari e-commerce web si puoi pagare le parti necessarie per il progetto sempre compro tutto e poi vendere tutto che non usano come tubi transistori e altri componenti che sono raro obietti questo è un modem che ho trovato qualche anno fa città città non città 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 5 inspira se non hai idee o rispira potrai fare una tour e essere inspirato dai vecchi lavori con idee interessanti e progetti Grazie a tutti.